Queste opere di architettura ostile, muri per non far dormire le persone per strada, non risolvono un problema ma ne creano tanti altri sparpagliati. Chi dorme per strada non è per scelta spesso e quindi pensare di risolvere un problema come quello del sottopasso di termini dove le persone che ci dormono sono i più marginalizzati della stazione e non hanno avuto nessuna forma di soluzione alternativa. Invece di guardare il caso singolo si cerca di risolvere tutto facendo dei muri di cemento. Questa stazione è sempre stata un luogo di accoglienza per quanto poco confortevole e quindi nessuno si meriterebbe una stanza che in realtà è un pilone dove ti cerchi di trovare spazio intorno. Però la soluzione alla quale hanno pensato loro per il decoro sicuramente non è una soluzione che andrà in una direzione dignitosa per l'essere umano. Il motivo per cui ci copriamo il volto è perché queste persone non hanno nulla, non hanno un volto perché non sono riconosciute da nessuno, da alcuna autorità o da tutte le persone che passano. Il fatto che pensino di utilizzare i fondi di una festa cristiana, tra l'altro come il Giubileo, per fare muri di cemento ci lascia sgomenti di fronte a una città che dimostra ancora una volta di essere soltanto capace di sgomberare, di cacciare, di mettere muri invece che di offrire soluzioni.